Sono costretta a chiedere l'elemosina e a subire violenze sessuali dal mio compagno, che ogni volta mi punta la pistola alla testa e minaccia di uccidermi se non faccio come dice lui. Così, disperata, una 42enne bulgara, disabile, ha cominciato sabato pomeriggio a raccontare l'ennesima storia di violenza femminile, mentre vagava alla ricerca di qualche spicciolo sul corso principale di Modugno, nel barese. Le agenti della sezione volanti di Bari l'hanno notata con lo sguardo perso nel vuoto e l'hanno fermata per scambiare due parole. Forse per quella donna, vittima di violenze continue, quei poliziotti le sono sembrati due angeli, due uomini che avrebbero potuto salvarla da un incubo. E così è stato. Piano piano la donna ha cominciato a raccontare i soprusi, che poche ore più tardi hanno permesso di far arrestare il suo convivente Aguzzino. A tormentare la vittima nel corpo e nell'anima era un serbo, 34enne, con precedenti penali, e finito in manette con accuse pesanti, violenza sessuale aggravata, minacce, maltrattamenti in famiglia, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e lesioni personali. Dopo la paura iniziale, la donna ha deciso di raccontare tutto. Difficile non crederle, visto che sul suo volto erano evidenti i segni delle violenze subite. Così ha dichiarato ai poliziotti che da alcuni anni veniva costretta a rimanere per strada molte ore al giorno, a chiedere le remossine, nonostante le sue difficoltà fisiche legate alla disabilità. Poi, quando tornava a casa, veniva ripetutamente violentata e minacciata di morte. Lei e la sua famiglia. A quel punto i poliziotti l'hanno accompagnata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato la rottura di un dente e lesioni su varie parti del corpo, subite meno di 24 ore prima. Intanto, altri agenti hanno iniziato a dare la caccia al convivente violento. L'hanno trovato in piazza Umberto, insieme ad alcuni amici. Accompagnato in questura, per lui è scattato l'arresto. In casa della coppia, gli agenti hanno trovato alcuni coltelli e una pistola a giocattolo. Ora la donna è stata trasferita in un centro antiviolenza.